Cari amici, cari telespettatori, da parte mia sempre un caloroso benvenuto a questo salotto letterario, la nostra rubrica televisiva a libro aperto, con lo scopo, con l'obiettivo di presentare libri che possono arricchire la nostra mente e il nostro cuore. Qualcuno ha detto che la lettura è il cibo della mente e in questa prospettiva, in quest'ottica noi vogliamo arricchirci potendo leggere, potendo approfondirci attraverso degli spunti di riflessione che ci vengono offerti dai nostri libri. Abbiamo nel corso di queste puntate alternato interviste in esterna, ospiti studio e in questo caso, come mi vedete da solo qui in questo bello studio, per potervi presentare un'opera, come lo sto facendo in più volte, della casa editrice Ilchia, che ha tradotto in italiano un'opera essenziale, la Collana di Teologia Sistematica e mi piace molto il sottotitolo, da una prospettiva pentecostale. Questo vi fa capire il valore di quest'opera. In questo momento mi rivolgo un po' a tutti i credenti pentecostali perché possano capire l'importanza di quest'opera di un grande dottore in teologia, professore e un grande e diciamo anche prolifico scrittore, Rodman Williams, che ha scritto quest'opera fondamentale. Perché da una prospettiva pentecostale? Perché in questo senso un'opera è una collana di teologia sistematica, ahimè, era un tema nel quale mancava un'opera che partisse da una prospettiva pentecostale. Ricordiamo che il movimento pentecostale è attualmente il movimento cristiano di risveglio più importante e considerevole al mondo. Si calcola che entro il 2025 il 50% udite e udite della cristianità nel mondo sarà di matrice pentecostale, in grandissimo sviluppo soprattutto nelle aree del sud del mondo come il Sud America, in particolare in Brasile e per esempio in molti paesi africani ma anche del sud-est asiatico, questo movimento si sta sviluppando in maniera esponenziale. Eppure in questo senso c'è da parte degli accademici sempre una forte reticenza nell'approfondire aspetti che talvolta riguardano la sociologia, talvolta riguardano la teologia del movimento pentecostale. In questo senso l'opera che alcuni pentecostali credenti hanno fatto di ricostruzione storica, come abbiamo presentato diversi libri in questo senso, ma anche dal punto di vista teologico di un dottore in teologia e un grande scrittore come Rodman Williams ha fatto in una collana di teologia sistematica in cui si parla di Dio, del mondo e della redenzione. Si tratta di un'opera diciamo in tre volumi che si intitolano appunto come vi ho detto Dio, il mondo e la redenzione, questo che ho tra le mani, ma ci sono anche altri due volumi intitolati il secondo Salvezza, Spirito Santo e Vita Cristiana, per farvi capire l'importanza dei temi trattati, e il terzo la Chiesa, il Regno e le cose ultime, che sono aspetti che riguardano sempre da vicino i credenti, ma anche quelli che vogliono sapere che fine faremo e dove andremo. Quest'opera, per farvi entrare subito nel merito di quello che ho tra le mani, vi voglio leggere anche delle piccole recensioni che hanno fatto pastori importanti come Burghies che ha scritto una miniera di riferimenti biblici e dottrine pentecostali contemporanei dall'alveo di varie tradizioni che professano la teologia pentecostale. Ancora in questo senso Heiford dice una solida teologia che conferisce al movimento pentecostale una prospettiva dottrinale e una nuova responsabilità biblica. Devo dire che in questo senso l'opera di Williams è importante perché ci fa capire, diciamo da un punto di vista pentecostale, quelle che sono delle verità cristiane che sono contenute all'interno della parola di Dio e della Sacra Bibbia. In questo senso ormai si può parlare di tradizione pentecostale, cioè di elementi dottrinali che questo movimento eleva a simbolo, diciamo in qualche modo, a credo fondamentale. Quest'opera è stata pubblicata in tre volumi separati, anche per consentire di avere un'agilità nella loro, diciamo, consultazione e costituisce il primo trattato esaustivo ed equilibrato di teologia pentecostale che in qualche modo è apprezzato, diciamo, in diversi ambienti dell'area pentecostale. Questo è importante perché è un lavoro che, come io amo dire, unisce e non divide. In questo senso è molto importante. Quest'opera, diciamo, è di carattere teologico, è espressione di un impegno intellettuale che ha caratterizzato tutta la vita di Rodman Williams, di cui vi invito ad approfondire le opere. È scomparso nel 2008, ma è stato un grandissimo, veramente attivissimo intellettuale, cristiano, un fine pensatore pentecostale che ha dato dignità a questo movimento, una dignità accademica, è chiaro. Quest'opera, quindi, è emblematica, è un po', diciamo, la più importante della produzione bibliografica del professor Williams e, diciamo, lo scopo dell'autore è anche quella di esortare la Chiesa, diciamo, nel andare avanti nella conoscenza con uno spirito e un'attitudine giusta, legata alle dottrine fondamentali della parola di Dio. Per questo vi voglio elencare i punti fondamentali nel quale poi si snota tutta la riflessione presente nei tre volumi di quest'opera che, vi ricordo, si intitola Collana di teologia sistematica da una prospettiva pentecostale. Rodman Williams, edito in italiano dalla casa edilizia Ilchia. Vi dicevo, diciamo, che i fili conduttori sono un'attitudine di preghiera, un profondo senso di riverenza, una crescente purezza di cuore, uno spirito di amore crescente e un approccio teologico radicato nella gloria di Dio. Sapete, sono tanti pensatori che hanno fatto elaboratissime ricostruzioni filosofiche, teologiche, religiose, ma che poi alla fine scopri essere prive di contenuto e prive di significato. Quello che mi colpisce di queste opere edite dalla casa di Ilchia è proprio questo fatto, cioè di essere opere che hanno avuto la caratteristica di rappresentare una guida vera, reale e concreta per i credenti, dai pastori ai credenti più semplici. Io sono onorato di potervi presentare questi libri che credo possano rappresentare un punto di vista fondamentale e anche dei testi diciamo importanti per la costituzione di una nostra biblioteca familiare e anche, perché no, di una propria conoscenza reale. Vi ricordo che gli aspetti con cui la casa di Dice Ilchia compie queste opere è legato al fatto che vogliono condividere la parola di Dio, vogliono offrire degli strumenti che possono essere utili agli insegnanti, ai pastori, ai missionari, a tutti coloro che insegnano la parola di Dio, possono essere rappresentare una guida per gli uomini, le donne e i giovani che si vogliono approfondire, vogliono consacrare i loro cuori ad una maggiore conoscenza della parola di Dio ed assistere per quanto è possibile per questa missione, per questa casa di Dice, anche i sofferenti, perché non dimentichiamolo, anche per incentivarvi all'acquisto di queste copie, voglio ricordarvi che questo libro, chi lo acquista, una parte sarà data come contributo, come offerta a delle opere di assistenza umanitaria e spirituale. E non ultimo, valorizzare, dare la giusta posizione a Gesù Cristo nelle nostre vite, perché poi alla fine lo scopo è quello, riconoscere Cristo come personale salvatore, compitore e capo della fede. E questo ci aiuta a comprendere appunto l'opera fondamentale che abbiamo tra le mani. Ma voglio anche dirvi che quest'opera di teologia sistematica dà una prospettiva pentecostale. Mi rivolgo in questo momento anche ai credenti pentecostali dicendovi approfondite questo aspetto, leggete quest'opera, acquistatela perché è importante capire come l'autore, attraverso un linguaggio fruibile, semplice, anche umile, così scorrevole, e ripercorre un po' i tratti fondamentali della dottrina pentecostale. Si tratta di anche degli strumenti diciamo di edificazione così chiare e così importanti. E tengo a precisare che ogni dottrina che è qui rappresentata, che è qui descritta, che è qui manifestata, lo è in maniera impeccabile. Perché? A parte per la preparazione dell'autore, che è un grosso accademico, un fine intellettuale, ma consentirei di dire che queste sono cose che passano in secondo piano quando si eleva la parola di Dio a strumento principale di riferimento, di ricerca e di approfondimento. E quindi, voglio dire, in questo senso l'autore riesce, come nessuno, a citare spesso la parola di Dio che in effetti conferisce autorevolezza anche alle sue tesi, alle sue posizioni. In questo senso l'obiettivo dell'autore è dare anche, diciamo, la giusta collocazione all'opera dello Spirito Santo e in un scrittore pentecostale come potrebbe essere altrimenti. Insomma, mi pare che l'opera dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo, è essenziale perché possa, diciamo, essere il punto di riferimento in ogni argomentazione teologica. E quindi noi dobbiamo capire l'importanza che abbiamo nello studiare un'opera del genere. Ricordo, fatta di tre volumi, il primo Dio, il mondo e la redenzione, il secondo volume Salvezza, Spirito Santo e vita cristiana, e il terzo volume La Chiesa, il Regno e le cose ultime. È proprio su questo aspetto che io voglio dirvi qualcosa, perché sapete l'argomentazione degli ultimi tempi, delle cose che sono accadute, che stanno per accadere e che accadranno, sono sempre di grande interesse. Molte persone si interessano e vogliono sapere cosa accadrà, ma io dico, soffermiamoci prima su quello che sta e deve accadere nel nostro cuore, la nostra vita, verso che spiaggia, verso che approdo si sta dirigendo, vogliamo fermarci nel luogo dove vogliamo approdare in un porto non sicuro, vogliamo rimanere in balia del peccato, della sofferenza, delle difficoltà, o vogliamo approdare in un porto sicuro in cui sappiamo di attraccare le corde della nostra vita, della nostra mente, del nostro cuore a Cristo Gesù il Signore. Perché poi alla fine, in un'opera del genere, collana di teologia sistematica, da una prospettiva pentecostale, secondo voi il messaggio è quale? Di affidare la nostra vita nelle mani di Gesù Cristo il Signore, perché possa essere il nostro capo, possa essere la nostra guida, e colui che ci guida verso sentieri più sicure. Perché sapete, oggi nel mondo c'è una frenesia, una frenesia spirituale che ci porta a considerare e dare importanza a delle cose frivole. siamo pronti e disposti a fare sacrifici per cose che poi non hanno nessun vantaggio per la nostra vita, se non un'immediata soddisfazione materiale. Eppure mi domando, lo domando a me stesso e poi a voi, quanto tempo dedichiamo alla lettura della parola di Dio? Quanto tempo noi vogliamo e abbiamo pensato di attribuire allo studio della parola di Dio? E il proponimento che io voglio prendermi oggi insieme a voi è proprio quello di approfondire lo studio della Sacra Scrittura. E questo può avvenire attraverso questa guida così importante, così preziosa, che ci offre la casa editrice Ilchia su queste argomentazioni. Vedete, capiterà che ci soffermeremo su altri testi editi da Ilchia nel corso delle nostre puntate. Mi rendo conto anche che la mia sola presenza in studio può risultare a chi ci segue, diciamo, richiede maggiore concentrazione. Però vedete, è essenziale anche che noi ci concentriamo su questi temi, perché ormai ci seguite, mi seguite da tanto tempo e avete visto che io non mi sono fatto mancare nessun argomento e vi assicuro che ne abbiamo preparati ancora di interessanti. Ma è essenziale appunto che noi dedichiamo spazio anche alla teologia, anche allo studio della parola di Dio. Anzi, elimino, diciamo, anche e metto soprattutto alla parola di Dio. Errata corrige. Detto questo, è importante che noi in qualche modo ci approfondiamo su queste tematiche. Vi ricordo www.ilchia.com, visitate questo sito, avrete un'idea chiara su quelle che sono, diciamo, la maggior parte delle opere editate da questa casa editrice, delle opportunità che avete per poterle acquistare. Io, come sempre, vi ringrazio per essere stati presenti da casa, dai vostri salotti, dai vostri divani, dalle vostre sedie, a questa rubrica televisiva. Vi do appuntamento alla prossima puntata della rubrica televisiva al libro aperto. Da parte mia un caro saluto e un sentito. Grazie. 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 Grazie.